Ciao a tutti ragazzi, in questo video faremo un TikTok insieme dove indosserò dei vestiti super cute da Soft Girl. Allora, come prima cosa vi farò vedere tutto quello che indosserò per questo TikTok. Allora, come prima cosa ci sta questa felpa con scritto Tokyo Japan, mi piace moltissimo. Poi ci sono questi jeans neri con questo fiocco, mi piace troppo, soprattutto questo fiocco ed è veramente molto bello. Comunque ragazzi, tutti i vestiti sono dal sito Runway e comunque vi lascio tutti i link qui sotto nell'info box, i link di tutte le cose che ho scelto del sito e anche un codice sconto. Allora, poi ci sta questo cappotto in pelliccia, mi piace molto e poi è molto molto peloso, comunque sì, è molto bello. Poi ci sta questo terry jacket, ragazzi questa è la cosa più morbida che abbia mai toccato. Comunque poi ha questo cappuccio con le orecchie così grandi, grandi, è proprio super cute, mi piace troppo. E con queste tasche, sicuro se hai freddo basta che indossi questo e subito ti cocco e ti riscaldo. Poi ci sta un altro terry jacket, eccolo qui però nero e questo non si può aprire fino in fondo. Però comunque anche questo è molto morbido, ha sempre il cappuccio con le orecchie. Queste orecchie qua sono più piccole, però comunque è veramente molto morbido e bellissimo e molto cute. E poi come ultima cosa ci sta questa pelpa corta, stile Brands, con questi scacchi qua. E comunque mi piace molto con anche il cappuccio e mi piace troppo che sia corta così. Poi mi sono anche truccata un po' da Soft Girl e mi sono messa, ho aggiunto un po' più di lentiggini, anche se io già ce li ho un po' di lentiggini. Però comunque poi ho messo anche un po' di glitter, oppure ho aggiunto più rosa, ho anche messo il cuorecino nero, poi ho messo anche un po' di ombretto rosa e l'eyeliner nero. E mi sono messa il rossetto rosa. E adesso incominciamo con il TikTok. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere il TikTok terminato. Però vi volevo dire che alla fine ho deciso di far vedere solo i due orsacchiotti, quello nero e quello beige. E ho tolto dal TikTok la giacchetta pelosa. Ecco qui ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo TikTok e che vi sia piaciuto questo video. Ricordatevi che lascerò tutto qui sotto nell'info box il link delle cose che ho scelto e del sito e anche un codice sconto. E ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a questo canale e anche di seguirmi su TikTok e anche su Instagram se volete. Comunque ricordatevi di mettere tantissimi like se vi è piaciuto il video. E comunque ci vediamo nel prossimo. Alla prossima ragazzi, ciao ciao! Ciao!